Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche da lontano, grazie naturalmente al senatore, ai direttori. Telegrafico perché abbiamo veramente poco tempo ma anche perché non sono cose nuove che diciamo al viceministro ormai il rapporto associazione e ministero è un rapporto consolidato, le cose le abbiamo dette, fatte, sviluppate, solo l'attenzione su alcune piccole questioni che poi piccole non sono in verità, sono questioni di tutti i giorni, quelle vitali. Innanzitutto un apprezzamento dell'UNASCA in generale, nel settore autoscuola in particolare, rispetto a grandi temi, a grandi riforme che ci toccano in prima persona perché riguardano milioni e milioni di cittadini. Recentemente è stata approvata finalmente con grandi soddisfazioni di tutti al Senato la legge sull'omicidio stadale, è ancora in corso la legge nere e la riforma del codice della strada, licenziata già alla Camera con grande consenso di tutte le forze politiche. E qui un po' di preoccupazione, signor viceministro, perché mi pare che sia un po' ferma da dicembre, credo, al Senato e quindi dovrebbe ripartire. Su questa in particolare abbiamo già detto tante volte, sono noioso, ma lo ripeto, in tutto quel testo non figura mai la parola formazione, abbiamo già fatto emendamenti e proposte, ci è stato detto, e anche nel corso della discussione della legge sull'omicidio stradale, gli stessi senatori hanno riconosciuto che proprio perché sono aumentate le pene è necessario mettere più formazione e quindi, ancora una volta, soddisfazione per questo. E poi c'è una grande riforma che non ci riguarda direttamente ma ci riguarda come cittadini, imprese, interlocutori, che è quella della pubblica amministrazione, che vede in parte riconfigurata la pubblica amministrazione, le province che hanno un ruolo diverso, ridimensionato, le competenze che devono passare dalla motorizzazione, alcune alla motorizzazione, altre ancora non si sa e quelle dove non si sa ci siamo noi, le autoscuole, i studi di consulenza e quindi discorso ampio che il governo e il Parlamento stanno affrontando finalmente dopo decenni di inerzia e che noi seguiamo ovviamente con grande interesse. Detto questo ci sono però alcune questioni, ricevo, quotidiane, concrete che si intrecciano con quelle di prima, non è che sono un'altra cosa, che io credo vadano risolte nell'immediato. La prima di queste di cui voglio parlare oggi, anche perché siamo in una zona in cui c'è sofferenza su questo tema, è quella del fatto che la sicurezza stradale, cosa che a noi interessa prima di tutto il resto, non passa solo da grandi riforme, non passa solo da interventi, progetti, eccetera, ma passa da un passaggio obbligatorio che c'è sempre stato, che è quello del conseguimento della patente di guida. Perché se chi consegue la patente la consegue male, fa degli esami stupidi, non è all'altezza di circolare, poi quel documento ce l'ha per tutta la vita. È vero che adesso con l'ergastolo glielo possono togliere, ma stiamo parlando credo di poche migliaia di trasgressori cronici rispetto a milioni di persone che circolano. E allora il momento della formazione in autoscuola e dell'esame della patente di guida è il momento centrale della sicurezza stradale, non è un momento accessorio o uno dei tanti momenti, è il momento centrale. È come la maturità, è come la laurea, è come il brevetto del portodarmi, cioè qualcosa che certifica che da quel momento quella persona entra nella comunità dei circolanti. E ovviamente ci deve entrare con le capacità, le abilità e requisiti necessari. Ma questo momento, che credo sia banale definirlo così, vede momenti di sofferenza quando chi deve esaminare, chi deve certificare questo momento di entrata nella società dei circolanti, di fatto non è nelle condizioni di poterlo fare. E non è nelle condizioni di poterlo fare per motivi di organico, la motorizzazione è sotto organico, non assume persone da vent'anni e quindi a fronte di chi va in pensione non c'è chi subentra, in compenso ha sempre più competenze e sempre più difficili. Le stesse operazioni di esami che fino a due anni fa si svolgevano in tempi diversi, la direttiva impone tempi più lunghi, modalità più complesse, andare in autostrada eccetera, ma le persone sono sempre quelle e quindi evidentemente possono svolgere meno operazioni. Il che vuol dire che chi deve conseguire la patente anche per lavoro deve aspettare mesi e mesi per poter fare l'esame, il che vuol dire che spesso e volentieri la qualità dell'esame ne risente pesantemente e quindi ne risente la sicurezza stradale. Non è un discorso corporativo, non è un discorso che interessa solo le autoscuole, è un discorso credo che interessi tutta la società. E quindi da questo punto di vista l'invito già fatto ma che rifacciamo qui oggi è che da una parte bisogna temporare situazioni di emergenza come quella di Firenze, ma dall'altra parte bisogna pensare che tutto il sistema debba essere rivitalizzato. Quindi si deve trovare o trasferimento da altre parti della pubblica amministrazione che chiudono e ridimensionano o un investimento di risorse umane andando ad assumere un nuovo personale. Altrimenti, spiace dirlo ma è la strada obbligata, si dovrà andare verso un concetto di privatizzare alcune operazioni. Non è uno scandalo, in molti paesi europei succede, noi preferiremmo di no, ma non perché, semplicemente per un discorso che in questo paese, da credo il 1930 se ricordo bene, gli esami li fa la motorizzazione, li fa in un certo modo, quindi ha un patrimonio storico che credo sia difficile ricostruire di punto in bianco affidando questo compito a qualcun altro. Però è ovvio che occorre intervenire, altrimenti, come scrivo nel mio articolo di fondo questo mese sulla nostra rivista, si va verso una morte lenta. L'altro intervento, e chiudo, è un intervento su coloro che già ci sono oggi. Gli esaminatori ci sono, fanno il loro mestiere, però nessuno si offenda perché tanto lo dice uno che sta entrando o è già entrato nella terza età. Gli esaminatori ormai sono anziani, sono anziani con metà alla grafica e di conseguenza sono più refrattari alle novità, all'innovazione, ai nuovi modi di circolare. Noi siamo ancora a insegnare e di riflesso ad esaminare con un modo di circolare che non sempre corrisponde a quello che oggi un normale automobilista deve fare. Ci sono sussidi tecnologici, c'è tutto il discorso della guida ecologica, di risparmiare carburante e rispettare l'ambiente. All'esame di guida questo non è contemplato, anzi diventerebbe il modo migliore per farsi respingere probabilmente. Quindi c'è bisogno di aggiornamento degli esaminatori. Mi risulta che la Direzione Generale da tempo sta lavorando su questo tema, però probabilmente ha bisogno di incoraggiamento da parte della politica, finanziamenti per poter svolgere questi corsi e aggiornare il personale. L'UNASCA è disponibile a collaborare a 360 gradi. L'UNASCA negli ultimi mesi ha svolto un'indagine all'interno delle autoscuole, degli operatori, insegnanti, istruttori, con centinaia e centinaia di intervistati che mettono in rilievo le cose positive e negative sia del nostro sistema che del sistema di motorizzazione. Questo studio è a disposizione del Ministero e della Direzione Generale per arrivare a trovare soluzioni condivise, ma soprattutto soluzioni ai cittadini che chiedono sicurezza. Grazie.